C'è un momento determinante di questo processo perché ascolteremo Marco Mottola e dovrebbe ricostruire i momenti di quella giornata del primo giugno e quindi rappresentare alla corte se abbia o meno visto Serena, se abbiano avuto contatti nei giorni precedenti, se fosse lui il ragazzo individuato davanti al bar qualche momento prima dei fatti che sono stati fatali per Serena. Quindi un momento molto atteso che potrebbe essere determinante per questo processo.